Con Gefeo, nella scuola di Amici 18 si torna a parlare di un argomento che è stato il centro di un intenso dibattito anche durante la passata edizione. Si tratta dell'impiego di autotune nell'esecuzione dei brani assegnati, che l'anno scorso fece molto discutere durante la fase serale. Allora, questo strumento era utilizzato praticamente in tutte le esibizioni del tre per romano biondo. Gefeo affronta per la prima volta in questa edizione questo tema e lo fa durante la sua prima lezione con Stash, che abbiamo visto proprio durante il daytime di oggi. Il professore di Amici 18 racconta a Gefeo di aver guardato su Instagram un video in cui l'alliedo difende la scelta di usare l'autotune nei suoi pezzi.Incantante, essendo molto convinto della sua direzione musicale che è la trap, non può che considerare legittimo l'impiego del software, essendo un elemento imprescindibile nel genere che nella scuola di Amici 18 è da lui rappresentato.Gefeo precisa anche che la scelta stilistica non deriva dalla necessità di migliorare l'intonazione, sapendo di non averne un particolare bisogno. E infatti subito dopo, durante il daytime, lo vediamo affrontare con determinazione e più che discretamente la cover assegnata, stavolta senza autotune.E voi cosa ne pensate della scelta di usare autotune da parte di Gefeo? Grazie per la visione!